Ciao, sono William Misaki di blog Misaki.it e oggi ti voglio spiegare che cos'è il sistema Misaki. È un sistema che ho ideato, è un metodo di lavoro che va ad abbracciare tutto il lavoro sia dalla fase iniziale, consulenziale fino alla posa in opera e anche oltre alla posa in opera. È fatto di un protocollo che mi serve inizialmente per capire le tue esigenze e il protocollo di intervista iniziale con il sistema Misaki è fatto di progettazione perché noi progettiamo i nodi di posa lavoro per lavoro non ci sono mai soluzioni standard è fatto di produzione di infissi quindi gli infissi vengono prodotti con dei determinati criteri soprattutto per quello che riguarda la scelta dei vetri nei sistemi Misaki alcune tipe di soluzioni non si possono usare perché non sarebbero coerenti con quello che abbiamo visto che funziona durante gli ultimi 32 anni e soprattutto quello che non funziona e che non vogliamo che accada a casa tua poi è fatto da protocolli ne specifici per la posa in opera e anche per quello che succede dopo la posa in opera quindi un controllo gratuito ma anche la possibilità di accendere un servizio di manutenzione annuale per fare in modo che i tuoi infissi con il sistema Misaki rimangono funzionali e prestazionali nel tempo perché quando si acquistano nuovi infissi solitamente si fa un investimento importante e quando si fa un investimento importante bisogna garantire una certa durata a questo investimento con il servizio B-Care di manutenzione annuale questo tipo di garanzia è assicurato dal servizio perché gli infissi verranno controllati e mantenuti con le stesse prestazioni nel tempo quindi il sistema Misaki parte da una consulenza una progettazione una realizzazione una posa in opera e anche quello che succede dopo e aggiungo anche un'assistenza di livello molto alto il sistema Misaki è anche assistenza infatti sul sito bisaki.it puoi compilare un modulo e a noi ci arriverà direttamente la richiesta di assistenza la prenderemo subito in carico con un sistema di lavoro anche questo testato e utilizzato per tutti i nostri clienti quindi nessuna telefonata nessuna ti devo ricordare di fare questo o ti devo ricordare di fare quest'altro noi abbiamo in carico la tua richiesta in un software specifico che ci ricorda quello che dobbiamo fare a seconda dell'urgenza dell'assistenza sia urgentissima, sia urgente o sia in una urgenza cosa che tu ci metterai a disposizione quando comprerai il form infatti c'è un campo dove potrai dire ad esempio se l'assistenza è urgente o urgentissima o non urgente questo molto velocemente è quello che è il sistema Misaki ti consiglio di informarti su chi l'ha già testato infatti puoi leggere più di 200 recensioni è una cosa che chiediamo a tutti i nostri clienti è una cosa che chiediamo subito dall'inizio cioè la prima cosa che facciamo ancora prima di fare la consulenza ti diremo se devi entrare il nostro cliente noi ti chiederemo una recensione perché è importante che tutti sappiano che se un'azienda lavora bene o lavora male a me piace molto il discorso della recensione soprattutto su Facebook perché c'è nome e cognome quindi puoi trovare un conoscente o un amico di un amico e puoi chiedere direttamente con lui se quello che ti ha promesso quell'azienda è vero oppure no se ti è piaciuto questo video iscriviti al nostro canale e metti un mi piace ciao al prossimo video iscriviti al nostro canale